Domani a quest'ora potremmo essere con lo champagne in mano a festeggiare perché arriva la risposta dei danesi. Abbiamo svoltato e possiamo pagare stipendi e debiti. Mi sa che abbiamo fatto il botto. Hai capito Luca Cosarini cosa dice nelle intercettazioni dell'inchiesta sull'ONG? Con queste parole pregustava l'arrivo di 125.000 euro che la petroliera del gruppo danese avrebbe versato per scaricarsi i 27 immigrati che stava trasportando e che l'ex leader dei disobbedienti ha poi portato in Italia con la sua ONG mediterranea. Avete capito bene, salvano immigrati per intascarsi soldi. Di questo vengono accusati dai magistrati di Ragusa che indagano su traffico di clandestini. Cosarini, che fu nominato consulente del governo dal ministro Olivia Turco e che recentemente è stato beccato alla Camera a colloquio con esponenti della sinistra parlamentare, è indagato insieme ad altre sette persone, fra cui un ex consigliere regionale dei Verdi ed un ex assessore della Giunta, sempre di sinistra, Cacciari a Venezia. Ma che ci faceva una petroliera ferma a largo con 27 immigrati? Stava perdendo decine di migliaia di euro al giorno e così c'era bisogno di qualcuno che intervenisse. Ci hanno pensato i buonisti italiani a risolvere il problema, a quanto pare non per ragioni umanitarie. Pensate che all'inizio i soldi chiesti erano più del doppio, 270 mila euro, ma sentite com'è andata. La nave Mare Ionio, su cui gli immigrati sono stati trasportati in Italia, era già diffidata dallo svolgere salvataggi in mare. Per questo si è inventata una scusa per uscire dal Porta Lampedusa, consegnare benzina. Una volta a largo, guarda caso, salgono a bordo due medici e scatta l'allarme sanitario. Dalla petroliana danese viene fatta sbarcare urgentemente una coppia, una donna in presunto stato di gravidanza, con il marito, poi visitata in ospedale in Italia, si scopre che la donna non ha nulla di patologico e non è neppure incinta. Il giorno dopo, il 12 settembre, arriva l'autorizzazione a sbarcare a Pozzallo. E questo episodio non è un caso isolato. Secondo l'accusa, questi signori avrebbero studiato di creare una sorta di lobby che facendo pressione sulla Commissione Europea facilitasse lo sbarco degli immigrati. Questi che fanno affare sulla disperazione umana sarebbero i buoni? E noi che chiediamo rispetto delle regole e dei confini, i cattivi razzisti? Da comunisti con Rolex ai buonisti allo champagne. Che schifo.